Ciao a tutti, oggi rimedio semplice per rinforzare e far crescere le unghie più velocemente. Allora, questo rimedio è super naturale come richiesto da voi, ci servirà del latte e del succo di limone. Vado ad immergere la mia mano per un quarto d'ora e poi cambio. Ogni volta che fate il cambio smalto oppure ogni tre giorni, immergete la vostra mano nel latte e limone. Va anche a rinforzare le nostre unghie e a rigenerarle e a nutrirle, quindi le nostre unghie sarà difficile che si spezzino. Mi raccomando, un quarto d'ora a mano e poi andate a far asciugare le mani all'aria, quindi non andate a lavare la soluzione ma fatele asciugare. Le vostre unghie saranno anche belle bianche visto che il limone sbianca. E nulla, io spero di esserti stata utile. Iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato e lasciami un commentino qui sotto. Metto un like se il video ti è piaciuto. Io ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!